Musica Hai trovato un nick fantastico Sì, lo adoro Senti, sei una tatuatrice ma sei anche la madrina qui di questo evento dai raccontami che evento è questo Dunque, questo è un evento che parla di tatuaggi, di arte Lo vedo, lo vedo Non solo questo ma è molto, cioè trovi tutto trovi il parkour, trovi lo skateboard, trovi i writers, l'hip hop, i rappers è un evento molto grande Un evento che si chiama Urban Esatto, Urban Land Parla dell'arte di strada Sì No? E tu sei una tatuatrice? Io sono una tatuatrice Da quanto tempo? Da dieci anni E faccio una modella sempre per Per tutto quello che riguarda i tatuaggi No, perché le modelle io so che non devono avere i tatuaggi Almeno in genere dicono così Adesso si chiamano le alternative model Quindi io faccio parte di questa categoria E di una piattaforma chiamata Suicide Girl Io sono una Hopeful E tutte le ragazze che fanno parte di questa piattaforma Sono ragazze tatuate Senti, fammi guardare un po' questi tatuaggi che tu hai Beh, insomma, tante farfalle Vedo proprio, eh, addirittura, insomma, personaggi sulla schiena Sì Capelli turchini Sì Insomma, tu sei proprio tutta colorata E non so, i tuoi genitori cosa ti hanno detto? Ma, diciamo che adesso loro ci hanno fatto l'abitudine E' stato graduale, ovviamente non sono uscita una mattina e sono tornata così Sì, è stato negli anni, progressivo I tatuaggi, i miei tatuaggi raccontano più o meno una storia E quindi ci sono voluti comunque degli anni E loro si sono abituati negli anni Dai costretti Io sono la zia pazza, la sorella pazza, la figlia pazza che va bene Bene, insomma, puoi fare anche la modella Per cui è giusto così Io oggi ho un po' di, un abbassamento di voce incredibile Perché, insomma, fa molto molto caldo Però questo caldo a volte danneggia le corde vocali Mi racconti il tatuaggio quello più difficoltoso che, insomma, ti hanno fatto addosso Difficoltoso? A livello tecnico probabilmente parliamo di tatuaggi di questo stile Quindi geometrico, ci vuole una tecnica, una precisione importante Ma gli artisti che me li hanno fatti sono comunque degli artisti bravissimi e anche importanti Quindi quelli a livello tecnico sono stati probabilmente più difficili A livello di sopportazione, proprio del dolore Probabilmente l'ultimo lavoro che sto facendo Che prende tutta la parte dei glutei, della parte posteriore del mio corpo Quella è... È una parte un po' delicata Sì I piedi anche, so che... Anche i piedi ce li ho tutti e due Ma non c'è paragone Senti, però sii sincera, cosa ne pensi delle persone che non hanno neanche un tatuaggio? Le adoro, perché oggi sono l'eccezione Io adoro le persone senza tatuaggi Amo i tatuaggi, ho un sacco di tatuaggi Tutti i miei amici sono tatuati, ma ho anche tanti amici non tatuati E la pelle pulita mi piace insieme Io ti ringrazio da parte appunto della categoria dei non tatuati Insomma, posso andare in giro tranquillo qui all'interno di questo contesto Assolutamente Non mi uccidete, vero? No, assolutamente Non c'è discriminazione L'arte non ha differenze Bene, allora io vado in giro qui all'interno del Paracadicchi E vado a cercare le curiosità per tutti quanti noi Grazie a tutti